come crescere su instagram domanda da un milione di dollari e se ci fosse la ricetta magica l'avremo già comprata tutti io per primo però ti do un suggerimento che funziona e che ho provato personalmente l'algoritmo di instagram lavora in modo abbastanza preciso affinché ti venga mostrato quello che realmente ti interessa ti spiego perché a tutti piacciono i video dei gattini su instagram nel momento in cui tu passi del tempo a guardare questi video a mettere un like a condividerli a commentarli o a salvarli stai dando un messaggio preciso a instagram ti piacciono i gattini se ti piacciono i gattini nulla contro i gattini facendo sapere a instagram che ti piacciono i gattini instagram mostrerà i tuoi contenuti a qualcuno che ha gli stessi tuoi interessi ma se tu vendi calzini perché instagram dovrebbe mostrare i tuoi contenuti a quelli a cui piacciono i gattini se con il tuo nuovo profilo farai ricerche riguardanti il tuo settore farei capire all'algoritmo non solo che il tuo interesse nel mondo delle calzature e dei calzini in particolare ma che gli utenti ai quali vuoi rivolgersi devono avere le stesse caratteristiche di interesse se non fai capire all'algoritmo a chi ti rivolgi davvero non glielo mostrerà mai se andando nella lente del tasto cerca troverai dei contesti che non fanno parte del tuo lavoro usa il tasto non mi interessa e non vedrai più gattini ma solo contenuti inerenti la tua attività e questa è social media strategy